Le nuove ruote che lanciamo oggi a Bergamo aiuteranno veramente ad aprire di più il mercato israeliano per gli italiani con quattro voli verso Tel Aviv e due voli verso il deserto del Negev all'aeroporto di Ovda. Diciamo che i voli verso Tel Aviv veramente danno l'opportunità di fare, per chi non ha tanto tempo, una vacanza breve e godere due città in un viaggio così fare forse due notti a Tel Aviv e due notti a Gerusalemme per tornare all'aeroporto e godere due città che danno veramente tanto dalla spiaggia alla storia, dalla cultura fino alla vita notturna pazzesca di Tel Aviv, tutto e di tutto si può trovare. Poi per chi va al deserto, il deserto è il posto forse più meraviglioso di Israele. Voi italiani avete tutto da offrire ai turisti ma il deserto non avete. Il deserto offre l'attività outdoor, offre l'attività sportiva, attività per le famiglie, da dormire in una tezza beduina fino a fare un giro sui cameli, sui cavalli. Poi fare una gita in bicicletta e godere la natura che è veramente unica al mondo perché nel deserto del Negev si trova per esempio il cratere naturale più grande al mondo, il cratere Ramon. Tutto questo in meno di quattro ore di volo da Italia.